La Banca d'Inghilterra corre ai ripari per sostenere l'economia dopo la Brexit. Il tasso di interesse fermo dal 2009 è stato abbassato dallo 0,5 allo 0,25%. La misura, già preannunciata dal governatore Mark Carney, ma poi rinviata, ha lo scopo di fare da stimolo all'economia del Regno Unito. Secondo la Bank of England, l'outlook si è indebolito. La crescita del PIL dovrebbe essere del 2,5% più bassa di quanto non fosse previsto a maggio. Ha detto il governatore, a conti fatti anche dopo lo stimolo, la disoccupazione dovrebbe salire dal livello attuale del 4,9% a circa il 5%, o forse 5,5% nei prossimi due anni. Le stime sul PIL sono state tagliate per il 2017 da 2,3% a 0,8% e per il 2018 da 2,3% a 1,8%. Confermate le previsioni per il 2016 al 2%. Ma non è tutto, il piano di acquisto di titoli di Stato è stato aumentato a 435 miliardi di sterline. Questo pacchetto di misure di dimensioni adeguate date all'entità della scossa e le incertezze circa la necessità di intervento. Tutte le misure in questo pacchetto possono però essere aumentate. La banca centrale potrà abbassare i tassi di finanziamento per le banche in modo da stimolare i prestiti ed estendere la tipologia di asset che potrà inserire nel programma di acquisti. Dunque Mark Carney lascia aperta la possibilità che la banca di Inghilterra agisca ancora. I timori si chiamano aumento della disoccupazione, crollo della sterlina e aumento dell'inflazione.